Ci siamo all'Arts & Craft a Pistoia, Giulio. Giulio Paolini, ristorante Il Grigio Veneziano, spaziavento, Pistoia. Una nuova avventura, una avventura giovane. Io ti interrompo un attimo, hai detto giovane. Giovane. L'ex VAT 69. L'ex VAT 69, rimanendo attaccata alla tradizione pistoiese e spaziaventina in generale, prolungando l'attività dello zio Vittorio, che era partito con il VAT 69, appunto il famoso locale della vita notturna pistoiese negli anni 70. Ho deciso di non voler far chiudere il locale di famiglia, provando questa nuova esperienza culinaria, magari forse anche molto azzardata per Pistoia sicuramente, rimanendo comunque sulla tradizione toscana, italiana e pistoiese in generale, in chiave molto moderna, dall'impiattamento alle cotture molto moderne, quindi sottovuoti, basse temperature. Menù prettamente di terra, con qualche inserimento di mare, molto azzardato, soprattutto nella parte orientale, che piace a noi staff di cucina e di sala. Menù vegetariano, attenzione anche per la clientela, quindi celiaca, con particolari intolleranze e allergie. Venite a provarci, chiederò. Senti, noi siamo in fiera, non ci sono fornelli, però c'è un video accattivante. C'è un video di presentazione, appunto, di qualche... Che ci fa vedere... Certo, qualche preparazione nostra... E ciò che suole che riesci a fare. Sì, sì, sì. Qui, per esempio, troviamo una mezza sfera ripiena di una spuma di brusciso, quindi questa sorta di gorgonzola, uno stilton inglese molto leggero, molto tradizionale anche, in un cioccolato fondente con una riduzione al porto e tre polveri, una di carota, una di vietola, di rapa rossa e una di spinaci, servito poi con una salsa al cioccolato bianco in tavola. Senti, siccome ci hai fatto venire voglia di venire a sgranare, perché poi a Pistola diciamo questo, gli orari, i giorni di apertura? Allora, giorni di apertura, tutti i giorni, siamo fiusi solamente il martedì tutto il giorno, e il mercoledì a pranzo. Perfetto. Siamo sempre aperti. Via provinciale lucchese, posizione strategica. 101, Spazzaverto, Pistola. Benissimo, e noi ci veniamo. Volentieri. Ciao e a presto. Ciao.